E' Fausto Raciti, il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Si è affermato anche a Gela con un totale di 2.526 preferenze. Hanno votato nella nostra città 3.171 elettori. A sostenere il giovane neosegretario, tra gli altri, Miguel Donegani. Nel primo circolo del nostro circolo, retto dall'avvocato Claudio Chizza, prende 1.069 voti Raciti, 101 Lupo, una percentuale del 92%. Questo dimostra che, nonostante un clima ancora un po' avverso della politica, il rinnovamento paga sempre. Un 29enne, Fausto Raciti, alla segretaria regionale, è passato il messaggio della discontinuità. Una candidatura unitaria, che ha visto Renzi e Cuperlo, le aree in Sicilia, sostenerlo fortemente. Il messaggio è un partito forte, unito, una svolta, che passi attraverso l'impegno regionale del Partito Democratico nei confronti del governo regionale, con più autorevolezza e peso nel partito e meno nelle istituzioni. Le istituzioni, i dirigenti del Partito Democratico a tutti i livelli. Cosa potrà cambiare adesso con la direzione di Raciti in Sicilia? Cambia uno scenario. Uno scenario che non è più un sostegno a Francia del partito, di aree e di sentimenti, ma finalmente una candidatura che vede tutte le aree e le sensibilità, fino a oggi avverse, fino a ieri avverse, insieme a un giovane, a un 29enne, per dare una svolta e un passo diverso in una guida del Partito Democratico, che vuoi o non vuoi, con le critiche che ci possono essere, è sempre un partito che svolge congressi democraticamente ed è un partito presente nel territorio regionale. Un altro importante dato degno di nota riguarda il numero dei componenti gelesi alla direzione regionale del Partito Democratico. Ne faranno parte infatti tre, Giuseppe Licata, Iosef Donegani e Luciana Carfi. I due candidati del sostegno di Raciti, che erano Iosef Donegani e Peppe Licata, sono stati eletti perché a Raciti scattano 14 delegati rispetto al suffraggio che ha avuto, due delegati scattano al lupo e uno alla monastra. Questi sono i dati che provengono dalla direzione regionale del partito, penso che verranno confermati, quindi per un totale di 17 delegati sarebbero 14 su Raciti, due sul lupo, i candidati alla serie della regionale e uno sulla monastra nel collegio Cattani-Settenna. Ricordiamo che il collegio era unificato. Lei dice che il partito si presenterà forte, unito alle prossime elezioni, ma come può conciliare questo con tutte le anime che invece contiene il partito? Ci sono tantissime correnti all'interno dello stesso partito. Sì, questo è il mio, infatti, è un auspicio, però le faccio osservare che per la prima volta un congresso regionale in Sicilia che ha visto l'elezione di Fausto, di Fausto Raciti, ha visto tutte le anime che lei mi rappresenta insieme in un progetto comune.